Gilberto Petrucci, una grande novità per Penne, l'area vestina, direi per l'intera regione Bruzzo, l'Accademia della Moda partirà dal 2025-26. Sì, un'opportunità straordinaria per il nostro distretto tessile dell'area vestina, stiamo lavorando per costituire il polo dell'alta moda, grazie ai marchi importanti, quali appunto Gruppo Cucinelli, Gruppo Brioni, e oltre anche ad una miriade di piccoli laboratori che lavorano per i grandi marchi. Abbiamo messo insieme, stiamo lavorando per creare un progetto per mettere insieme tutti questi marchi e l'obiettivo è creare appunto formazione. In Abruzzo abbiamo necessità di formare circa 10.000 operatori del tessile, oltre che ai sarti, quindi Penne, che è evocata una visione per la sartoria artigianale abruzzese, ospiterà questa Accademia della Moda. Io sono contento perché credo che un territorio evocato alla sartoria come quello di Penne potrà diventare un fulcro strategico importante per l'economia abruzzese e per il settore tessile. Assolutamente d'accordo, ci sono le basi, c'è una grandissima tradizione nell'area vestina. Che impulso ha dato Cucinelli? Cucinelli senza alcun dubbio ha rilanciato questo polo dell'alta moda e io sono fiero di aver, tra virgolette, coccolato questo imprenditore, questo stilista che ha apprezzato le mani sapienti dei nostri sarti, grazie alle quali oggi Penne è tornata ad essere una delle principali realtà più importanti del territorio. Lui stesso ha paragonato Penne alla Ferrari, è impossibile scindere la Ferrari da Maranello e Penne dalla sartoria artigianale di alta qualità.